Tra poco, hai poteri magici e hai una vita alla strega, è la dolcissima Sabrina, a Toon Disney. Tutti i giorni, a Toon Disney l'estate segue il ritmo dei tuoi film d'animazione preferiti. Ehi amico, voglio vedere un po' del movimentetto. Allora scateniamoci. Avanti! Non perdere i magici film d'animazione, tutti i giorni alle 11 e alle 16, a Toon Disney. Mamma, senti questo rumore! La posta è in gioco. Ecco a voi, il magnifico fuori serie solare 3000. Non è mai stata così alta. Che succede qui? Siamo per viaggiare intorno al mondo per avere il giorno estivo più lungo della storia. Non perdere un'incredibile missione estiva nell'episodio speciale Phineas e Ferb, un'estate straordinaria. E subito dopo, segui una divertentissima maratona di episodi. Passa una serata straordinaria con Phineas e Ferb. Domani dalle 21 e 5 a Disney XD, canali 616 e 617. Potrebbe andare a scuola su una scopa magica. Sabrina, tra poco a Kill Business.